Nell'intervista di presentazione ufficiale di Cristiano Giuntoli alla Juventus, il direttore sportivo di 51 anni ha dichiarato che Vlaovic non è incedibile per il club. Per noi, Chiesa e Vlaovic non sono cedibili, ma per trovare il giusto equilibrio dobbiamo pensarci. Al momento, stiamo puntando su di loro, ma se ci saranno offerte molto interessanti, ci penseremo perché dobbiamo mettere a posto i conti del club. Abbiamo molta fiducia in Vlaovic, ma non è un mistero che alcune questioni debbano essere risolte. Questo significa che di fronte a un'offerta importante, penseremo a un accordo. Ha detto l'ex Napoli. Vlaovic al momento è il giocatore più ambito della Juventus Chelsea, Bayern Monaco e PSG stanno competendo per lui. L'ex giocatore della Juventus, Darko Kovacevic, ha consigliato al suo connazionale di rimanere alla Juventus Darko Kovacevic ha detto quanto segue. Ho sempre detto che Vlaovic è un grande giocatore, ha solo 23 anni e mi piacerebbe che rimanesse alla Juventus dopo una stagione difficile. Ha molto da migliorare. Se fossi al posto di Vlaovic vorrei che rimanesse a Torino. Sulla possibile sostituzione di Vlaovic con Lukaku, Darko Kovacevic ha detto. Lukaku è un grande attaccante, ha la qualità per giocare in una grande squadra come la Juventus, ma tra i due scelgo Vlaovic perché ha molto di più da dimostrare e molta più motivazione rispetto a Romelu. Non è solo una questione di età. Basta pensare a una cosa, se i grandi club spagnoli, quindi PSG e Bayern Monaco, sono interessati a Dusan, penso ci sia una ragione per questo. Giusto. Ha concluso l'ex giocatore serbo. Qui di seguito, puoi esprimere la tua opinione su questo argomento. Vorresti che Vlaovic rimanesse alla Juventus?